Mancano poco più di tre mesi alle prossime elezioni amministrative ed a mesagne proseguono le varie interlocuzioni tra partiti, movimenti e liste civiche. Il comune messapico al momento vede il solo sindaco uscente, Toni Matarrelli, quale candidato certo alla carica di primo cittadino. Pare oramai più che scontato l'appoggio del Partito Democratico, ad oggi all'opposizione, che confluirà nella coalizione formata perlopiù da moltissime liste civiche. Tra queste ci sono quelle del consigliere regionale Mauro Vizzino, con i suoi 16 candidati, e del presidente del Consiglio Comunale, Omar Artura, da sempre vicini a Toni Matarrelli. Dialogo anche tra il Movimento 5 Stelle e lo stesso PD, ma il supporto dei pentastellati non è ad oggi assicurato. L'attuale sindaco ha già anticipato il proprio progetto elettorale di una coalizione allargata a tutti i partiti e le liste civiche, che condivideranno i valori di un programma di ulteriore crescita della città, di cui chiaramente non faranno parte i partiti di centrodestra. Dicevamo che i democratici sono attualmente ai banchi di opposizione, creando una vera spaccatura nel centro-sinistra, ed è proprio per questo che il partito cittadino intende aggiustare il tiro, sostenendo appunto Matarrelli, in quella che sarà una coalizione allargata. Il PD, intanto, ha già tracciato quelle che saranno le proprie linee guida, puntando sulla valorizzazione di tutta la città, senza trascurare la periferia, anche se ovviamente il centro storico rimane il fiore all'occhiello di Mesagne. E sulla zona industriale, attualmente non sfruttata a sufficienza. Nicchia invece il centrodestra, il quale sarebbe indirizzato a puntare, seppur non ancora ufficialmente, su Vincenzo Lotesoriere, espressione di Fratelli d'Italia, che dovrebbe riuscire a raccogliere consensi anche in altri bacini elettorali di centrodestra. Quest'anno, dunque, potrebbero non esserci cinque candidati sindaco, così come accaduto dal 2010 al 2019, e Matarrelli potrebbe essere il mattatore indiscusso di questa tornata elettorale, vincendo a mani basse. In tutto ciò, l'esito delle urne del 9 giugno prossimo dovrà essere senz'altro sulla scorta del riscatto di Mesagne degli ultimi anni, passata da capitale della Sacra Corona Unita a finalista nel concorso per il titolo di capitale italiana della cultura.